The New Stories. La tua informazione libera. La standing ovation che ha accolto la sua performance ha reso tangibile l'emozione del momento. In un gesto spontaneo e carico di significato, la conduttrice Mara Veniera ha abbracciato Loredana Bertè, manifestando in modo tangibile la vicinanza e l'empatia di tutti coloro che stavano condividendo quel momento speciale insieme a loro. Mentre il pubblico continuava a tributare il suo affetto alla cantante, intonando il suo celebre successo Sei bellissima, Loredana ha voluto dedicare un tenero pensiero alla sua cara sorella Mia Martini, pronunciando con dolcezza le parole, Ciao Mimi. Un omaggio semplice ma carico di significato.